Un essere umano quasi visibile ad occhio nudo intitolato alle sue opinioni, eccone un altro che ha perso il cestino del pranzo. Si scava il guscio di un muso semplice, la pianta vecchia al riparo nel vaso, che è la fortuna adunca dei deperimenti. Forma e formula, sublime e scarto sublime, daini incatenati ad una cera preistorica. Accanto all'emporio di liquori dove ogni giorno e giovedì traballa un fiume di scarpe crepate dal sole. Seminario sulla pioggia ipogea caduta a sacchi, spicchi di terra rossa, fatto che muorde la minima virtù. Adesso siamo a un estremo di lucidità. D'ansaglio pitagorico si trae risicata stima di chi fosti, di quel riandare all'ippodromo, fingere interesse, nascondersi. Sua nonna gli dava il laudano. Un cucchiaio da appena morto stringe alle caviglie, ma l'anima si fa presto un ruvido corpo scosceso. Adesso siamo fluidità. Poi saremo collera. Zitti. Ci muoveremo come catari in fuga. Ma il caso rema comunque le sue groppe contro flutti di mani gigantesche. E la mente assottiglia ancora di più il suo macinato. Alla existing. Grazie a tutti. Grazie a tutti.